Circa 200 rom hanno chiesto e ottenuto asilo nella Basilica di San Paolo, a Roma, subito dopo essere stati sgomberati dal loro campo. Il sindaco alemanno ha in questi giorni impegnato il comune della capitale in un'intensa campagna di sgomberi dei campi abusivi. Circa mille persone sono state allontanate dai loro accampamenti in una settimana. L'azione del sindaco è stata criticata dalla comunità di Sant'Egidio, che da anni si occupa dei rom, secondo cui non si intravede una politica di accoglienza e umanità all'altezza del ruolo di Roma e della sua responsabilità nazionale e internazionale. Parole a cui alemanno ha risposto con altrettanta durezza, sono fuori dalla realtà. Il pugno duro del sindaco non piace neanche Amnesty International, che ha lanciato un'azione urgente per chiedere al prefetto di Roma di fermare immediatamente tutti gli sgomberi forzati degli insediamenti di Roma a Roma. Intanto a San Paolo, dopo un primo incontro chiusosi con un nulla di fatto, ai rom è stato proposto di mandare donne e bambini in un centro fuori Roma per due settimane per poi riunirsi in un campo attrezzato. I rom non hanno accettato. A questo punto si è mosso il Vaticano, attraverso la Caritas Diocesiana, che darà accoglienza ai rom.